Programma ricco anche nel sabato della pallavolo biellese. Andando per gradi partiamo dalla serie B1. La Virtus Biella torna in campo dopo il turno di riposo. Le Nerofucsi affronteranno al Palasarcelli di Chiavazza le Pavesi di Garlasco. Per le ragazze di gocce Simone Marangio c'è da difendere l'imbattibilità casalinga e possibilmente mettere nello zaino altri punti per confermare la buona classifica dopo il primo mese di partite. Garlasco è un avversario temibile. Le Pavesi sono una new entry del girone ma, con una partita in più, sopravanzano di un punto la Virtus e hanno già espugnato il campo di Parella. Primo servizio alle 21. Scendendo di una categoria il team volley cerca ancora la prima vittoria e i primi punti in serie B2, dopo quattro sconfitte in altrettante partite. Alle 20.30 affronteranno al Palasport di Lessona Alba, un osso durissimo perché le avversarie di turno sono terze in classifica e sono ancora imbattute, con un percorso opposto a quello della ragazza di coach Fabrizio Preziosa che dice Adesso ci dobbiamo mettere sotto col lavoro senza abbassare la testa. Dobbiamo essere come un blocco di cemento armato perché è nel momento di difficoltà che si vede se siamo giocatori, se siamo una vera squadra. Stesso discorso vale per lo staff, dobbiamo uscirne tutti insieme perché non possiamo fare a meno di nessun componente. Non è un problema di quantità, stiamo lavorando davvero tanto, ma di qualità, attenzione e cattiveria per ottenere il rendimento a tutti i costi. Ci dobbiamo mettere in testa che fare bene e fare male sul singolo pallone non sono la stessa cosa. Dobbiamo entrare nell'ottica di non poter più tollerare errori gratuiti per non concedere vantaggi agli avversari. Abbiamo tutte le potenzialità per uscire da queste difficoltà. Ci crediamo, dobbiamo solo trovare la forza di soffrire e resistere, perché sono convinto che basti una sola scintilla per farci accendere. Nella Serie C maschile invece la SPB non vuole più fermarsi. Il primo posto in classifica non è casuale, poche squadre sono a livello dei biellesi allenati da coach Carlos Di Leonardo. Per loro una trasferta a Torino sul campo del Lasagliano, primo servizio alle 19.45. È un altro big match. La SPB capolista mette alla prova le sue ambizioni sul campo della terza forza del campionato, che finora ha perso solo una volta per 3-0 contro Chieri, cancellata a sua volta, con lo stesso risultato, dai biellesi lo scorso weekend al Forum. La speranza è di far valere la proprietà transitiva. Sarà sicuramente una partita tosta, dice lo schiacciatore Filippo Brusasca. Ci stiamo allenando molto bene tutti e siamo contenti di essere così in alto in classifica. Dobbiamo continuare a mantenere alto il livello tecnico in settimana in modo tale da poter giocare al meglio tutti i sabati.